weeeh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone da yeeeh weeeh bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi eh sì oramai ci siamo da pochissimi minuti come potete vedere proprio davanti a me il rift beacon di lago ghiacciato e quello di palmetto si sono attivati questo ragazzi lascia ovviamente intendere che domani con la patch 10.30 vedremo due nuove location in game la vera domanda è che cosa apparirà al lago ghiacciato secondo voi tornerà davvero boschetto è una bella domanda ragazzi io sinceramente non ci conto così tanto secondo me sarebbe troppo facile che boschetto tornasse in questo modo sarebbe invece molto più probabile che a palmetto arrivi qualche cosa dedicata alla nuova collaborazione di fortnite con it insomma ragazzi staremo a vedere quello che ci riserva il futuro io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale per i ragazzi che sono in live io resto in live noi ci vediamo presto ciao